Come tradurre un'esperienza secolare e un'arte così antica come quella del fare un buon vino con una tecnologia utile e sostenibile. L'esempio che offre Duca di Salaparuta con la produzione del corvo nella cantina Aspra è esemplare. La gestione è totalmente automatizzata in ottica di industria 4.0 fino all'imbottigliamento. Celle di contenimento governate digitalmente, raffreddamento condizionato, controllo delle temperature. Tutto passa attraverso software di gestione che permettono di governare il processo dall'inizio alla fine e capire quali sono le caratteristiche del vino che si cerca. La tecnologia usata in Duca di Salaparuta non vuole stravolgere quello che viene raccolto in campagna ma è soltanto un aiuto per aumentare la qualità e dare un'espressione maggiore a quello che quella nata si è fatto in campagna. La linea è dotata di alcuni strumenti tecnici che ci consentono di monitorare durante l'imbottigliamento sia l'alcol che la densità che anche l'ossigeno e la CO2 nel vino in maniera tale che il controllo risulta sempre tangibile e possiamo verificare ogni momento se le qualità e le caratteristiche ricercate sono finissiche in quel vino. La tecnologia così avvicina l'eccellenza, diventa una lente di ingrandimento e un grande schermo di osservazione del micro e dei fenomeni del processo. Dietro c'è l'uomo, l'enologo che mette a disposizione la sua conoscenza e utilizza i dati del processo per massimizzare il risultato. La passione resta la stessa. L'enologia 4.0 significa avere tanti mezzi a disposizione per poter governare e gestire i processi di vinificazione e i processi che portano ad ottenere dei risultati e dei buoni vini. Ducala di Sala Paruta con i suoi mezzi ci dà sicuramente modo di poter gestire questi percorsi e questi processi nel migliore dei modi. È questa tecnologia applicata a quello che è la passione per il vino e l'amore per questo lavoro che è quello che ci fa ottenere i risultati che troviamo nei bicchieri.